Giornata di quarti di finale sui campi del CT Francavilla, oggi speciale in compagnia solo di Luca del Federico, per noi è motivo di orgoglio, direttore, con il meteo che ha avuto un po' da ridire, quindi gare interrotte, allora ne parliamo abbondantemente con Luca del Federico. Al momento che noi registriamo questo speciale sta rientrando in campo Gaio, Travaglia è già pronto con la racchetta in mano, 7-6 Gaio, 2-1 Travaglia nel secondo set, il match che completa il tabellone dei quarti di finale. Che giornata è stata Luca? Allora oggi abbiamo avuto, questo è l'ultimo quarto di finale e una semifinale di doppio, giornata comunque positiva per il tempo, abbiamo avuto solo in quest'ultima tre quarti d'ora, un'oretta scarsa, un po' di pioggia, però il campo è già pronto e fra 5 minuti dovrebbero rientrare i giocatori per ricominciare il warm up. Stiamo già parlando con l'arbitro, quindi ci siamo, lo dobbiamo accelerare noi Luca. Sì, sì, ma comunque c'è ancora tempo e poi come potete anche vedere dal tabellone luminoso, anzi in questo momento no, in vantaggio Gaio 7-6 nel primo, mentre 2-1 Stefano Travaglia nel secondo. Diciamo che abbiamo un italiano in semifinale. Un italiano in semifinale fra Travaglia e Gaio che aspetterà lo Slovacco-Kombos, mentre dall'altra parte un derby tutto tedesco fra la tessiseria numero 1 Marterer e il connazionale Otte. Marterer 101 del mondo. Marterer 101, fino alla scorsa settimana top 100, un giocatore molto importante, tessiseria numero 1, comunque ancora molto giovane, che con non poca difficoltà si è sbarazzato del giocatore svelese Imer. Che torneo è stato finora Luca? Un bellissimo torneo, forse qualche infortunio di troppo con ieri Bellucci, giocatore brasiliano e poi con anche il nostro Giulio Zeppieri, il giovanissimo ragazzo junior che per una contrattura poi si è dovuta ritirare proprio Stefano Travaglia. Tra l'altro possiamo anche cominciare a fare un piccolo bilancio su questa terza edizione del torneo di Francavilla. Quanto è contento il direttore del Federico? Io voglio ripartire da quanto abbiamo visto lunedì e ieri, ovvero le due giornate di festa Pasquetta e il 25 aprile, con i spalti qui completamente gremiti. Guardate, gli sportivi e i telespettatori posso dire questo, ieri avevamo tutto esaurito e abbiamo voluto chiudere la biglietteria anche per problemi di ordine pubblico, chiaramente non potrebbero entrare più spettatori. Vedendo il match di Budapest con 250, con un monte premi di circa 500 mila dollari, Fra Sinner e Gere c'era molto meno pubblico rispetto a Francavilla, ho detto tutto. Com'è stato il primo set tra Gaio e Travaglia? Molto bello, molto combattuto, Stefano Travaglia in qualche momento decisivo ha perso qualcosina e Federico Gaio ha saputo portare a termine il primo set. Facciamo proprio una cosa in live, Alberto, intanto salutiamo Alberto Capo che è dietro la telecamera, facciamolo vedere un po' mentre parliamo noi il warm up, mentre sta per riprendere il match. Ripetiamo, 7-6 Gaio il primo, 2-1 Travaglia il secondo, servirà Gaio alla ripresa del match che ora sta provando un po' di volé. L'unica speranza azzurra è il vincitore di questo quarto di finale. Secondo te Luca si può arrivare fino in fondo con gli italiani? Perché due anni fa Giannessi persi in finale, l'anno scorso invece trionfò Quinzi. Me lo auguro, lo spero e credo di sì. Ce l'auguriamo tutti veramente di avere un giocatore italiano in finale. Come sta il tennis abruzzese? Luca, vogliamo guardare un po' a 360 gradi? Che mi dici? Enrico, qui è una domanda da mezz'ora di chiacchierata, forse ci potremmo fare uno speciale. Allora, a livello di manifestazioni stiamo veramente molto molto bene perché l'anno scorso è stato fantastico, due challenge, una Fed Cup. A livello di movimento tennistico c'è molto fermento però i circoli vivono molto chiusi in se stessi ed è un peccato perché a livello agonistico stiamo soffrendo più di quanto meriterebbe. Comunque oramai l'Abruzzo è una delle regioni più importanti d'Italia per il movimento tennistico, non lo stesso, parlo di tennis agonistico, non di movimento di tesserati perché comunque come tesserati l'Abruzzo rapporto popolazione-tesserati è una delle prime regioni d'Italia. Quinta come tesserati a livello di discipline sportive però a livello agonistico si soffre. Luca, chiudiamo così, ricapitoliamo chi sono i semifinalisti. I semifinalisti della parte alta sono Marta Ler contro Ott, quindi un derby tutto tedesco, nella parte bassa abbiamo lo Slovacco Combos contro il vincente fra Gaio e Travaglia. Che ora domani le semifinali? A partire dalle 15 però comunque più tardi andremo a definire con precisione gli orari appena sarà terminato il match. L'ultima Luca, poi dobbiamo chiudere che sta per iniziare il match. Ieri ci hai dato una chicca ovvero il torneo 250 dovrebbe essere a Monza sull'Erba, però poi hai detto magari chissà una Coppa Davis, un primo turno in Abruzzo, maschile. Ce la facciamo? Ma guarda sarebbe anche un bel sogno portare questo evento da 80 a 100 punti e quindi questa potrebbe essere un'altra chicca che ci riserviamo, casomai da domenica sportiva. Ne riparliamo domenica allora. Ciao Luca del Federico, grazie al direttore, noi ci fermiamo qui con i nostri speciali per questa settimana perché da domani saremo in diretta con gli aggiornamenti delle semifinali mentre domenica tutta la finalissima in diretta sul Rete8 Sport. Grazie ad Alberto Capo e bocca al lupo a Travaglia e a Gaio che stanno per riprendere il loro match.